Morti, ingiustamente troppi, morti sotto le bombe, morti dentro l'ospedale, morti ingiustamente, Palestina, nel mio cuore, Palestina, che cosa ti hanno fatto morti, ingiustamente per servire un pazzo, poi comane, falso attore, Zelensky, morti, ingiustamente, altri 50 miliardi Europa ha deciso di spendere, morti ingiustamente, senza l'aiuto di chi era vicino Hawaii, bruciati i vivi, senza l'aiuto un po' lontano c'era la nave di USA, i militari non possono aiutare i civili, ma i civili devono pagare le tasse per questi militari traditori, politici assassini, morti ingiustamente, il mio governo si astiene alla tregua, morti ingiustamente, nello IEPE, in India, in Siria morti sotto il telemoto in Turchia, morti sotto il telemoto in Siria, morti sotto il telemoto in Morocco, morti sotto il telemoto in Afghanistan, morti bruciati i vivi in Cile, morti ingiustamente, per colpa del vaccino, morti per soddisfare il mercato del malato, della multinazionale, morti ingiustamente, tu sei vivo, ribellati, diventa un volontario, perché la vita è il più grande valore, la vita è il più grande valore, la vita è il più grande valore, la tua, la mia, di ogni persona in questo mondo, basta morti, basta morti ingiustamente, ingiustamente, l'ha deciso il potente, l'ha deciso il mercante, morti ingiustamente, bisogna fermarli, diventa volontario, per la società creativa, segui il progetto, basta morti. ingiustamente,